Questa carica è un'unica parola, o su due? Oltrepassa è un'unica parola, no? O su due. Con due P però, o due parole? Uno. Oltrepassa con due parole e una. Con due P e una. Questo è quello che abbiamo appena fatto, silenzio, cerchiamo di rimanere calmi. Vede la quantità di carica che oltrepassa la superficie in un intervallo di tempo, delta Q. Ho spedito la J. Poi io soffro molto a fare queste robe perché non vedo. Sono molto handicappato qua. Questo è un lavoro molto faticoso per me. Ok. Quando è ortogonale è ovvio che manca il coseno di teta. Questo è banale. D'accordo? Quindi la J la chiamate la densità di corrente elettrica. Ok? La S cos'è? E' la densità di corrente di energia. Uno potrebbe, come ho scritto là in fondo, l'analogia è quella. D'accordo? S vi da la direzione e il modulo S vi dice anche qual'è la densità di questa specie di corrente di energia. Quindi la parola intensità, questa parola l'ho usata poco fa ma senza soffermarmi su questa trasparenza. L'intensità cos'è? Allora, l'energia elettromagnetica che sbuca per unità di tempo e per unità di aria si chiama intensità SH e si misura in giallo al secondo per unità di aria, quindi metro quadro, watt al metro quadro. Quindi nel sistema internazionale l'intensità si misura in derivato al metro quadro. D'accordo? L'intensità, questa roba che abbiamo appena calcolato, SH è questa cosa qui. D'accordo? Questa è chiamata in realtà l'intensità istantanea. Come vedete c'è la dipendenza del tempo qua. Poi si parla dell'intensità mediata sia nel tempo che nello spazio. quindi si fa una media di questa cosa qua. Quindi voglio aggiungere la parentesi t qui per ricordare che è l'intensità, chiamiamola istantanea. quindi metto l'intensità istantanea e aggiungo qui brutto da vedere, dove la metto? Metto qua? Ok? è giusto? Il correttore automatico dice che è giusto. Salvo? Se no? No. Presentazione? Presentazione? Ok. Quando fate la media di questa roba viene fuori un fattore e un mezzo. Perché in blu c'è il coseno e in rosso c'è il coseno quadro. Vedete che il coseno oscina tra 1 e meno 1 invece il coseno quadro oscilla tra 0 e più 1 e se io vi chiedo qual è la media della curva blu oscilla attorno allo 0 quindi la media della curva blu è 0 invece la media della curva rossa è un mezzo ok? quindi la media del coseno quadro vi da un fattore un mezzo d'accordo? eccolo qua c'è l'un mezzo quindi questo qua diventa un mezzo quindi la c è qui, la y0 è qui, la e0 è qui e quindi questo vi da l'un mezzo quello che entra alla parentesi se volete è il valore massimo della densità di energia questa è un'espressione che non ho usato ahimè anche se è implicito di tutto quello che ho fatto vediamo indietro sono parole queste eh? questa roba qua silenzio l'un mezzo epsilon 0 e quadro si chiama la densità di energia del campo elettrico per sapere quanta energia c'è in un condensatore dovete sapere la densità di energia poi dovete moltiplicarlo per il volume quindi questo vi da quanta energia al metro cubo quando moltiplicato per un metro cubo vi da l'energia del campo elettrico questa roba qua un mezzo 1 sub 1 0 b quadro è la densità di energia del campo magnetico d'accordo? densità di energia va bene questo è un tipico esempio numerico che si vede in giro in tanti esercizi forse un'altro non ricordo più un'onda piana che si propaga nella direzione x con un'ampiezza elettrica un certo numero quasi 300 volte al metro con polarizzazione lungo la direzione y eh? scrivere explicitamente i campi E e B calcolare l'ampiezza del campo B scrive il vettore dei pointi e calcolare l'intensità e l'intensità media è banale no? guardate questa scheda qua molto bene e usate le formule che sono nel powerpoint quindi questa è la scrittura esplicita del campo elettrico propaga nella direzione x ed è polarizzata nella direzione y il valore E0 sarà 288 volt su metro il campo B cos'è? è questo diviso C propaga dalla stessa direzione x però ovviamente è orientato a direzione z per la regola della mano destra campo elettrico è l'indice campo magnetico è il pollice è il medio elettrico, indice, medio è il campo magnetico e la direzione di propagazione è il pollice ok? quindi qua poteva esserci un più o un meno un segno più o meno dovevate usare la mano destra per convincere chi vi ha dato il segno più d'accordo? il vettore di pointing è questo e quindi questo è il vettore di pointing usando questi due è banale quindi l'ampiezza del campo magnetico è semplicemente quello elettrico diviso C quindi viene fuori un certo numero di cosa? di Tesla l'intensità ok? è questa roba qui come funzione del tempo questa è l'intensità media quindi è questo modulato dal coseno ok? l'intensità media viene fuori dividete questo per due semplice d'accordo? meditate su questo semplice esempio questo l'ho fatto questo l'ho fatto e d'accordo abbiamo chiuso questo power point ho fatto qualche piccolo commento qui quindi è ovvio che se prendete due oscillatori che differiscono nella loro frequenza naturale ma hanno omega 0 diverse la loro capacità la loro prendete un oscillatore una particella carica e lo fate oscillare perderà energia in crespattura del campo elettrico d'accordo? allora immaginate due oscillatori cioè dovete immaginare questo disegno qua con due oscillatori che hanno un omega 0 diverso d'accordo? qual è quello che perde più energia? per unità di tempo due oscillatori due cariche elettriche però che sono attaccate a molle con costante elastiche diverse e a oggetti di massa diverse perderanno per unità di tempo perderanno energia a un ratio diverso perchè? perchè il ratio con cui perde l'energia dipende dall'omega alla quarta quindi due oscillatori che hanno omega diverse perderanno energia a un ratio diverso questo è il messaggio d'accordo? questo è il messaggio non meditate su questa meditate su questo disegno il tasso con cui perde l'energia dipende dall'omega 0 di questo oscillatore cos'è l'omega 0? è l'ampiezza naturale di oscillazione cioè se questa particella non avesse carica se fosse neutra oscillerebbe avanti e indietro con una pulsazione omega 0 quindi con un periodo 2 pi greco diviso omega 0 d'accordo? con diversi periodi quindi il tempo tra questo picco e questo dipende dalla costante elastica questo l'abbiamo capito dipende da k diviso m ok? il secondo periodo dipende da tante cose in particolare dalla rigidità della molla e dall'inerzia del blocco se adesso avete due molle e due blocchi e hanno la stessa carica entrambe perderanno energia dalla stessa carica magari li fate partire dalla stessa ampiezza di oscillazione però hanno pulsazioni diverse hanno frequenze naturali di oscillazione diverse perderanno energia a un ratio diverso questo è il senso attenzione questo segno meno è in valore assoluto questo è un oggetto negativo quindi sto dicendo in valore assoluto il rato della perdita di energia della particella 2 quello che ha la pulsazione più grande è maggiore di quello dell'altra ok? su questa slide vorrei che voi rispondesse a questa domanda perché? leggete quella frase la carica 2 risente solo del campo alettico creato dalla 1 perché? guardate il disegno perché la particella 1 sta andando in questa istantanea sta andando proprio nella direzione della 2 quindi lui si muove certo crea un campo magnetico certo ma il campo magnetico che questo crea in questo punto com'è? pensate alla legge di più osservato questa carica che si muove è una corrente non vi pare? quindi avete la corrente che è così e voi state cercando di calcolare il campo magnetico qua quindi avete il versore, forse il disegno è più alto non parlo qui se questo è un filo e poi che so il filo fa una cosa del genere e io vi chiedevo il campo magnetico di questo punto e poi vi chiedo questo elemento di corrente qua contribuisce? contribuisce qui a un campo magnetico? a un campo magnetico? dai, l'abbiamo fatto questo non contribuisce perché non contribuisce? questo è U di R scusatemi si, questo è U di R qua U di R primo va dall'assorgente al punto matematico questo è parallelo a questo quindi il prodotto vettore è nullo quindi questo che è una carica in movimento crea o no un campo magnetico qua? no! perché? perché il vettore che va dall'elemento di sorgente che dovrebbe creare in questo punto un campo eutoriale va così è proprio parallelo alla corrente quindi questo signore non vede il campo magnetico creato da questo il campo magnetico creato da questo in questo punto vale 0 quindi questo signore sente solo la parte della forza di Lorentz che viene dal campo elettrico ma pensate al contrario quindi questo signore sente solo la forza questo A2 questo slide è estremamente importante ragazzi stiate zitti e cercate di pensare questa freccia verde rappresenta l'accelerazione della carica 2 quindi moltiplicando A2 per M voi avete la forza la forza di Lorentz sulla carica 2 è parallela a questa freccia verde la forza è per di qua perché è di qua? perché c'è solo il campo elettrico in questo punto c'è solo il campo elettrico non c'è il campo magnetico quindi la forza di Lorentz in questo punto è dato da Q2 per il campo elettrico creato da Q1 guardate adesso la domanda opposta qual è l'accelerazione o qual è la forza se volete che la particella 1 sente la particella 1 si trova in questa posizione e in questa posizione c'è sia un campo elettrico che nasce da questo quindi una forza elettrica in questa direzione ma c'è anche una forza magnetica perché? perché in questo punto c'è un campo magnetico creato da questa corrente c'è una corrente c'è un campo magnetico che esce dalla lavagna in questo punto c'è un campo elettrico che è di là e c'è un campo magnetico che esce di là e siccome la particella ha una velocità in questa direzione e il campo magnetico esce dalla lavagna scusate è così vedete che c'è una forza magnetica in questa direzione volete che io lo disegni? no, non posso, non voglio farlo dovete mettere in meditare questa domanda qua perché? 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 quindi la conclusione è che questa accelerazione e questa accelerazione non sono parallele e quindi va a farsi fottere la terza legge di Newton e quindi la quantità di moto di questo più questo non è una costante però tutto si salva perché il campo elettromagnetico trasporta la quantità di moto quindi ci sono tre personaggi in questa figura non ce ne sono due c'è anche il campo questa figura è estremamente importante ho messo qualche commento in più quando l'elettrone precipita lo stavo scrivendo prima il precipitato quando l'elettrone precipita sul nucleo l'energia meccanica va verso meno infinito quindi vedete che il valore ho forse scambiato gli estremi si, sono scambiati qua questo dovrebbe essere meno 13 e sono scambiati qua perché il valore finale è meno infinito qua si è corretto, qua è sbagliato quindi qua metto infinito dove è il singolo all'infinito? c'è la realtà matica ecco qua infinito questo è 13,6 ok? e ovviamente qua non si deve più niente questo lo assumo? vabbè, lo tolgo, tanto si capisce c'è anche scritto là va bene? ok, questa è un'altra tipica domanda sono due cariche uguali è un disegno opposto guardate il piano di simetria cioè il luogo di punti che hanno la stessa distanza a due cariche ok? adesso spengo questo per un attimo e poi lo riaccendo dopo notate com'è fatto c'è un piano qui a 0 volt un piano a 0 volt un piano a 0 volt ecco un pezzo di rame questo pezzo di rame è messo a massa cosa vuol dire? che questo pezzo di rame ha potenziale elettostatico 0 qua ha una certa distanza di metto una carica positiva Q cosa succede? nel tenere ferma la carica noto qualche sforzo muscolare particolare? se lascio la presa cosa succede? la risposta è che sentirò un notevole sforzo muscolare e appena lascio la presa questa carica accelera verso la piastra con quale forza? questi due esercizi sono identici sono identici in questo spazio silenzio in questo volume che sta a destra del piano infinito di rame questi due esercizi sono assolutamente indistinguibili cioè il volume che è a destra di questo piano questo è il piano dei punti equidistanti punti equidistanti è un piano questo è un piano di rame silenzio fate anche sputtacchiare a destra di questo piano v uguale a zero e a destra di questo piano di rame v uguale a zero il problema è indistinguibile e quindi quello che è la risposta qua è la risposta qua quindi qual è la forza che questa carica sente trovandosi di fronte a un piano di rame messo a zero volt la forza questo sente una forza e la forza è uguale a uno su quattro c3 x0 q4 sarà una forza attrattiva quindi c'è un segno meno se volete perché è verso di là una forza attrattiva diviso se questa è la distanza dalla carica dal piano la chiamiamo di allora questo è 2d perché questa è la forza di culo che c'è qui questo segno meno vuol dire che è attrattivo questo è un trucco si chiama il metodo delle immagini altro esempio questo è un piano di rame e questo è un altro piano di rame li mettete a 90 gradi una carica qua che ha questa distanza chiamiamola A da questo piano e a questa distanza B da questo piano sentirete cosa succede? sentite uno sforzo muscolare particolare nel tenere la carica qua ovviamente il piano è attenzione il piano è a massa cioè cosa vuol dire? che questo è tutto v uguale a zero v uguale a zero dire a massa vuol dire che è v uguale a zero ok? v uguale a zero è un altro modo per dire il potenziale del rame è v uguale a zero sentite uno sforzo muscolare particolare a tenere la carica lì? si! e quando manlate la presa ci sarà un'accelerazione perchè risentra la forza che forza? allora questo è l'esercizio equivalente a questo questo è l'esercizio queste sono le linee matematiche per guidarne dal disegno intanto devo provare a tutto due le misure quindi questo è un quaderno? questo è un quaderno? questo è un quaderno? questo è un quaderno? non ho provesso il segno Dove queste linee matematiche sono a v uguale a 0 Quindi, quello che succede in questo quadrante è equivalente a quello che succede qua Certo, qua c'è rame, ma non sto dicendo quello in questo quadrante è equivalente a questo problema in questo quadrante Quale cariche devo mettere qua per dare la risposta giusta? Cioè devo mettere delle cariche qui in modo che questa linea e questo piano siano a v uguale a 0 Come devo mettere le cariche? Usate la testa QQQ? O-Q-Q-Q Facciamo segno a questi O è Q-QQ O è-QQ Pensate Questo è-Q Questo è-Q E questo è-Q E questo è-Q Perché così questo è un piano potenziale uguale a 0 per questi due E questo è un piano di v uguale a 0 per questi due O per questi due E quindi qual'è la forza che la nostra carica sente? Come no? Certo che sento la forza Perché sente una forza di repulsione dovuta a questo Ci sarà una forza di repulsione Attrazione voglio dire Ci sarà una forza di attrazione Questa è positiva Questa è negativa C'è una forza di attrazione con questa Però questa qua avrà un modo La forza di attrazione che nasce da questa carica Ha un modo diverso Perché? Le distanze non sono uguali No? Questa l'ho chiamata la distanza A No? Questa è la distanza No, l'ho chiamata questa La B E questa la A Ok? Questa è la B E questa la A Quindi questa distanza qua è 2B Mentre questa distanza è 2A Quindi le distanze sono diverse I moduli sono diversi Quindi avete una forza di attrazione per di qua Una forza di attrazione per di qua Che è un modo diverso E avete una forza di repulsione dovuta a questo Che però è la più distante Quindi la forza di repulsione è in questa direzione E avrà un modulo corrispondentemente piccolo In base alle diverse distanze Quindi dovete usare La somma vettoriale delle forze di Coulomb Concettualmente non è difficile La difficoltà è semplicemente un po' di trigometria No? Cioè se questa è A e questa è B Questa distanza qua è la radice quadrata Di secondarti A quadrata di più quadrata Quindi queste due doti Quella eccetera 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 Pensateci Quindi un problema apparentemente difficile Riconosco che è Con questo trucco riesco a risolverlo Questo si chiama il metodo delle immagini Questa carica qua che è dall'altra parte Questa carica qua è una carica in margine di questo Questa carica è distribuita sulla piastra E in realtà voi avete tante cariche qui Che sono distribuite abbastanza concentrate in faccia a lui Poi la distribuzione non è uniforme E la somma di tutte queste cariche qui vale meno Q E come se questa vede una carica Vede la trazione di una carica negativa Certo tutte queste cariche spalpagliate sul rame Ma l'effetto di tutte queste cariche Come se ci fosse una carica meno Q Analogamente questa carica positiva Induce delle cariche negative qua Avranno certamente una distribuzione non uniforme E qua ci sarà proprio perché questo è a 0 E ho un accumulo di cariche negative qua E ho un accumulo di negative da questo spigolo qua giù E' diventato in realtà uno spigolo positivo Poi ci sarà una distribuzione complicata Ma l'effetto complessivo di questa carica qua Di questa carica qua e questa carica qua E' come se avessi una carica negativa A un'opportuna distanza La carica positiva a un'opportuna distanza Lo spigolo è qua no? E' una carica di T Questo è un metodo delle immagini molto potente D'accordo? E volevo farvi vedere un'altra cosa Molto rapidamente E ormai ispiriamo le 10 mi raccomando Allora supponete qualcuno vi dice Ecco una sfera Ecco una sfera di rame Quindi in elettrostatica le sferre di rame sono equipotenziali E fate in modo che questa sfera qua sia a massa Cioè volete che questo sia v uguale a 0 E mettete una carica positiva qua Eh? Vi muovo Ormai a vale di questa intuizione qua Alla domanda Secondo voi Tenere questa carica positiva qua Di fronte ad una sfera messa a 0 Messa a 0 nel senso che In posizionale è uguale a 0 Tenendo questa carica qua Senta uno sforzo molto muscolare inusuale Rispetto a tenere semplicemente la mano così Quando non la presa cosa succede? Questa carica positiva induce delle cariche negative su questa sfera E ci sarà una forza di attrazione Allora come fa la gente a calcolarla? All'epoca dei vecchi corsi di laurea Quelli che duravano da parte dell'elettromagnetismo 100 ore E da parte delle meccaniche 100 ore Si faceva questo calcolo Non ve lo faccio più Perché è molto matematico Ho un sacco di integrali Però era abbastanza istruttivo Per quello lo facevamo Non c'è più il tempo di farlo E perdete l'opportunità di imparare qualcosa Però forse il sapore di quel tipo di problema Lo potete in qualche modo intuire Da queste semplici versioni del metodo di Mars Guardate qua Allora questo è il clear wall Allora per esempio Prendo una carica positiva qua Non vediamo Non vediamo Non c'è Dai Crucio di energia Andate da là a là Coraggio Ovviamente dovrò inclinare Si accende o non si accende Stanno scaldando Si vedono un po' di fotoni uscire da là Quanti fotoni? Mentre me li hai fatti in conto? Allora attenzione Se ho due cariche assolutamente uguali Come ho fatto prima Quindi ho un dipolo E io cerco il posto dove c'è 0 V uguale a 0 Eccolo là E faccio plot Viene fuori un piano Non è proprio un piano Ma semplicemente Perché probabilmente Questo non è 0,000 Ma è 0 con una certa precisione Vedete che sono solo una cifra dopo la virgola Quindi se è 0,01 Allora non è proprio un piano Per essere il piano Adesso è 0,000 D'accordo? Ecco il piano Se adesso ovviamente aggiungo un'altra carica qua Lo sovrappongo un po' Così si vede che ci sono due Questo ovviamente sparisce E vi chiedo Dov'è che è 0 di nuovo? Andiamo a cercare Mannaggia Riuscirò a prendere? No Mannaggia Che stress Non ci arriva Occorrerebbe un modo Ecco la Ah Quando morate il pollice si è spostato Provo di qua No, peccato Adesso dico al programma Di disegnare i punti che hanno v uguale a 0 Una sfera E quindi nel conto che si faceva una volta Si sosteneva Qua avevo messo due cariche Questo ero 1 Vedete Centro della sfera è qua Non è sulla carica blu È qua Quindi il problema sta servendo La soluzione del problema Qual è la forza Che questo sente In faccia A una sfera messa a 0 Volt Equivale Alla carica messa vicino A una carica Che ha valore diverso Più piccolo Questo è la 2q Questo è meno q Ok? E questa meno q È messa in un posto speciale Questo è il centro Ed è messo Questo ha una distanza opportuna In modo che questo punto qui No, non è quello No, non è quello Dove disegno? Qua Se questo è il centro della sfera E questa è la nostra carica q C'è una carica meno q Da qualche parte Meno q A primo Perché è diverso Q' È inferiore a q Prima cosa Lo vedete qua Qua avevo 2q E qua è meno q Questo è inferiore a questo Quindi il trucco È di sapere questa distanza E questa distanza E quindi questo punto Che ha una certa distanza Questo è il raggio del cerchio Del raggio della sfera Chiamiamo No, no, attenzione Sto sbagliando Questo è il centro del cerchio D'accordo? Questo è il centro del cerchio Questo è la carica immagine Questa si chiama la carica immagine Cioè il comportamento di questo Questo induce sulla sfera di rame Le cariche negative E il comportamento di questo È come se si trovasse Di fronte a una carica meno q Ma la carica meno q Non è al centro del cerchio È spostato Come vedete dal disegno Allora In questo punto Che appartiene alla sfera La richiesta è che Che i potenziali In questo punto Matematico Creati da questa carica Da questa carica Da questa carica D'essere zero Cioè stiamo dicendo che Cioè stiamo dicendo che Se chiamo questa la distanza r' Quindi questa è la carica immagine Carica immagine 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 Attenzione È una carica equivalente A tutte quelle che sono Realmente distribuite E chiamo r' La distanza del punto sul rame Rispetto alla posizione della carica immagine E chiamo r La posizione del punto matematico La posizione della sfera Rispetto alla carica vera Questa qua Io sto chiedendo Che uno su quattro pi greco Epsilon zero Q primo Diviso r primo Sia uguale a un mezzo Quattro pi greco Sto chiedendo questo Ovviamente questo non c'entro fico secco Sto chiedendo questo Cioè sto chiedendo che questo Dove essere uguale a questo Questa è la richiesta base E poi uno si fa un po' di geometrie Un po' di trigometrie Un po' di opportuni calcoli E ricava la forza che c'è qui Ok? Vorrei che voi guardasse un attimo Adesso ho due cariche qui E una qua Cosa succede se ne metto tre? Guardate com'è messa la sfera Eh? Guardate com'è messa la sfera Rispetto alla carica Adesso lo cambio Metto una terza carica qua Quando lo farò sparirà la sfera Cerchiamo il punto che è a zero volt Dov'è? Vedete sta scendendo Sta scendendo E' da qualche parte qua Eccolo già superato il zero Danno Mannaggia Appena ho tolto il dito Ecco, vedete come questa carica si sta avvicinando al centro però la sfera è anche più piccola Qua ho tre cariche e qua ne ho una Quindi questo era il messaggio che ho cercato di darvi l'altro giorno quando abbiamo cominciato a parlare della capacità e dell'induzione elettostatica completa Se questa è la vostra sfera messa a massa e qua c'è una carica non tutte le linee vanno a finire qua Alcune vanno a finire qua ovviamente vanno localmente a 90 gradi Perché devono andare a 90 gradi? Perché la sfera deve essere potenziale Alcune linee magari fanno così ma altre proprio non ci vanno per niente Quindi se ho qua una carica 3 e questa è una e qua disegno quattro linee quindi quattro potrà fare dodici Da qua escono dodici linee ma solo quattro di quelle vanno a finire sulla sfera Solo quattro di queste linee che escono qua vanno a finire sulla sfera e quando ci vanno ci vanno così Devono essere localmente a 90 gradi rispetto a... Devono essere normali alla superficie In questa parola La parola 90 gradi non è molto felice Le linee di campo devono essere normali alla superficie Di quei dodici linee di campo che escono qua I quattro che vanno a finire che stanno cercando di andare alla carica immagine e vanno a finire sul rame ci vanno normalmente al rame ma le altre otto linee scappano via Vanno a finire altrove D'accordo? Meditate su questo